...e che si ha lasciato particolarmente attraverso le persone in mezzette, riuscendo a riprodurre idee in musicali, che rimandano al dopo, e anche alle episodi che rimandano al sogno. Nella sua suizia immortale, lei che dipinge la gente, la saggia e gli umori della nottezza, riuscendo a catturare il suo sogno, la mento della morte di una morte, immaginare una scena di un sedimento, e i greci che facciamo il perdimento. Il intervento di Sette Minello ha poi il corso. Grazie. 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 Grazie.